Benvenuti amici ed amiche sul nostro canale. Fino a ieri era trappelata una notizia bomba che Jeanne Yaman e Demet Özdemir si fossero riavvicinati perché sembrava che lei avesse lasciato il suo fidanzato e avresse annullato addirittura il matrimonio. Questa notizia aveva già fatto molto scalpore in Turchia e già ne parlavano tutti e già vedevano il fatto che Demet sarebbe venuta in Italia per imparare l'italiano e ci lavoravano già sopra per vedere un futuro in una storia che tutto fosse studiato per avvicinarsi a Jeanne. Ma improvvisamente è uscita una smentita netta poiché Demet Özdemir e il suo fidanzato August Cancock hanno fatto quello che per i Turchia è una tradizione assoluta cioè il caffè amaro che consiste nel preparare il caffè, la futura sposa preparerà il caffè al futuro sposo, lui lo dovrà bere amaro, si legheranno i polsi con un nastro rosso e chi accetta uno dei membri della famiglia più anziani, chi accetta questo matrimonio taglierà questo nastro rosso come segno indissolubile del loro amore. Ecco hanno fatto questo a dimostrazione appunto che tutto sta procedendo come l'avevano programmato per la preparazione del loro matrimonio e quindi a breve vedremo su tutti i social e tutte le cose varie e vedremo appunto questo nuovo loro momento di gioia che sboccerà nel loro matrimonio. Quindi notizia revocata, Demet Özdemir sta ancora con il suo fidanzato August Cancock e stanno continuando tutti i preparativi per il loro matrimonio che si presume come hanno dichiarato loro luglio o agosto che durerà un paio di giorni e si terrà luglio o agosto.